La primavera ormai è persa, così come la Pasqua, ma per gli agriturismi toscani si rischia di perdere anche tutta la stagione estiva. Ad oggi le strutture toscane hanno infatti registrato l'annullamento di tutte le prenotazioni fino al mese di maggio, ma il timore è che si debba cominciare ad annullare anche quelle prenotazioni, poche per la verità, per i mesi di giugno e luglio. L'allarme è lanciato da Confagricoltura Toscana, che stima che i danni già sofferti dalle strutture agrituristiche della regione si attestino intorno ai 25 milioni di euro, con una media di 8-9 mila euro andati in fumo per ciascuna azienda che vede nella ricettività un'importante integrazione del suo reddito. Alle perdite dovute ai pernottamenti cancellati si somma il mancato introito per tutte le attività collaterali che restano bloccate, le degustazioni, i pasti, i matrimoni, i cooking class, le visite, le attività nelle fattorie didattiche. Il colpo per la Toscana è particolarmente forte, è la regione con il più alto numero di agriturismi, con 4.600 aziende e circa 64.000 posti letto, una media di quasi 900.000 arrivi all'anno, pari a 4 milioni di presenze, oltre il 31% del totale delle presenze nella regione toscana. Le misure, conclude Confagricoltura di sostegno al reddito e i rinvii previsti dagli attuali provvedimenti del governo, sono del tutto insufficienti per fronteggiare questa situazione.